Musica Allora, io sono Domenico Cerenzia, sono il presidente dell'associazione culturale San Mauro che opera qui a Cantinella. È un'associazione che ormai più di dieci anni operiamo e passiamo un po' dalle sagre paesane alla presentazione dei libri. E quando Adelaide ci ha proposto di dargli una mano siamo stati molto felici, anche perché io personalmente Adelaide l'ho cresciuta. Ero molto amico del suo papà e quindi per me è stato un piacere aiutarla, dare la disponibilità della nostra associazione sia nella presentazione del libro Ero sia di tutti i preparativi che sono in corso di adesso e del dopo, dopo presentazione. Ci sarà un ulteriore spettacolo di tutta la serata. Grazie a tutti.